Siamo amici di Calcio Pazzo, segui le sfide più divertenti, condividi e fai iscriviti al nostro canale. Buona visione! Vieni qui su Calcio Pazzo, che provvede al tuo soldazzo, due risate e te le fanno fare. Calcio Pazzo, te devi da iscrivervi! Tanti talk divertenti, tanti challenge e gameplay, posso in te io non aspetterei. Calcio Pazzo, te devi da iscrivervi! Entra in aria, le stienne, il tiro, succhia! Mmm, che godimento quando è così!